Pasqua amara per i contribuenti marsalesi. In questi giorni sono state recapitate via posta le bollette dei conguagli dell'acqua e le sorprese non sono mancate. Si tratta di conguagli che per la precisione riguardano il periodo compreso tra agosto e dicembre del 2015. Un po' tutti mormorano che si tratta di costi sopra la media rispetto agli altri anni. Altrettanto numerosi i casi di chi si è visto recapitare le bollette di conguaglio senza che però mai nessuno abbia letto effettivamente il suo contatore. Infatti la società incaricata di fare lettura ha comunicato al comune che non hanno trovato nessuno in casa e quindi non è stato possibile leggere i numeri del contatore. E allora si utilizza il metodo più semplice, una sorta di stimo ovviamente al rialzo. In mezzo però ci sarebbero anche bollette calcolate erroneamente, quindi meri errori umani che hanno inserito una cifra anziché un'altra. Il risultato è quello di una città finita nel caos dove già da tempo le polemiche si consumano per un'eccessiva pressione fiscale su cittadini, imprese e commercianti. Sulla cifra finale del conguaglio ci sarebbe anche una sanzione per la non accessibilità dei contatori. Come accade in questi casi, afferma il consigliere comunale Aldo Rodriguez, a subire le vessazioni di chi è incapace di amministrare sono solo i cittadini più disagiati che per motivi vari non possano andare a presentare il modulo o più semplicemente non sono informati e pagano pensando che del comune ci si possa fidare. Pare anche che il comune di Marsala abbia introdotto un sistema di calcolo penalizzante per chi ha un contatore all'interno della propria abitazione. Il consumo massimo per una civile abitazione è di 168 metri cubi l'anno, mentre ne addebitano 250 se per l'appunto il contatore è all'interno della casa. Nelle abitazioni in cui non è stata fatta la lettura del contatore si è deciso, aggiunge il segretario cittadino della CISL Antonio Chirco, l'aumento fino a superare il raddoppio degli importi usuali dei conguagli. Al cittadino colto di sorpresa e giustamente insofferente non resta che affrontare la superficialità altrui e al lavoratore chiedere un permesso al proprio datore con il rischio di impantanarsi nelle file e perdere la giornata lavorativa. Considerata la situazione di caos, in questi giorni l'amministrazione comunale marsalese è corsa ai ripari prorogando la scadenza del pagamento delle fatture al prossimo 30 aprile. Visti tanti reclami evidenziano dal municipio, ci sarà la possibilità per i cittadini di chiedere il ricalcolo.